Grazie Grazie ogni anno abbiamo visto la popolarità del spirito del pianeta crescere più e più e più e abbiamo nessuno ci ringrazio ma Ivano di anno in anno vediamo quanto cresce la popolarità dello spirito del pianeta e possiamo solo ringraziare Ivano questo Quindi che adesso tutti i gruppi tornino sul palco per il finale del spirito del pianeta quindi che adesso tutti i gruppi tornino sul palco per il gran finale dello spirito del pianeta Grazie 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 Hawaii Grazie 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 anche quest'anno ce l'abbiamo fatta e anche l'anno prossimo ci saremo dai facciamoci sentire anche noi qua a sinistra o a destra a sinistra e voi in mezzo che aspettate al centro tutti assieme aperto gli aztechi del messico io lo so ma tutte le volte mi diventa difficile pensare che non si possa vivere insieme guardate che belli che sono tutti i loro colori, tutti i loro fantastici vestiti e tutte le loro fantastiche culture che dobbiamo assolutamente mantenere questo può succedere soltanto con rispetto e voi essendo qua così tante a quest'ora vi portate questo rispetto e sono sicuro che loro quando torneranno a casa ci ricorderanno di alcune migliaia di bianchi, di italiani, di fratelli che gli hanno portato rispetto un applauso a tutti voi a tutti voi che gli avete dato questo come si fa a cavolo a dire che questo è un sudamericano questa è una persona impressionante della cultura che ha è un inca non un sudamericano è un nostro fratello adesso adesso Hollywood devi dire che ci sono un po' di miliardi di fogli di testa che fanno le cose bellissime è un po' di mili di testa e un po' di mili di testa è un po' di mili di testa un bel applauso per la sinistra adesso facciamoci sentire e lo spirito del pianeta si faccia sentire dappertutto speriamo nei prossimi anni di andare anche in altri paesi accendono un bel applauso a tutti voi grazie mille tutti assieme facciamoci sentire grazie mille